Mix and match Che poi tanto mix and match non sono Nel senso che sono degli outfit Però, però, se ci fai caso Tutto quello che indosso può essere interscambiabile A partire dagli accessori Scarpe, borse Il vestito rosso me lo posso sparare con il sandaletto dorato Per sbrigarmi Il vestito lungo nero me lo posso sparare con i sandali alti Color cuoio ed essere leggermente più Shriek Nero e cuoio, in my opinion, stanno molto, ma molto bene Le zeppe con i pantaloni Color cuoio e come vedi Ti propongo degli outfit che possono essere mischiati Allora, nuovo esperimento Per nuova rubrica di Anna Lisa Superstar Una volta al mese farò un video outfit Weekly che racchiude una serie di outfit Che sono interscambiabili tra di loro Che sono interscambiabili tra di loro Che sono interscambiabili tra di loro Grazie a tutti 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 Grazie a tutti